Una coppietta appartata in auto nella zona industriale di Trepuzzi è stata vittima di un vero e proprio agguato ad opera di tre banditi armati di pistola. I rapinatori, sorprendendo la coppia intorno all'una di notte, si sono fatti consegnare tutto e tutto hanno portato via, i soldi, i telefoni cellulari e la macchina, una Fiat Punto. Due rapinatori sono partiti a bordo della macchina appena rubata e l'altro li ha seguiti alla guida della Fiat Panda di colore rosso sulla quale era arrivata la banda. Indagano i carabinieri della compagnia di Campi Salentina. Poche ore più tardi, in piena mattinata, è stato messo a segno un altro colpo sempre nella giurisdizione di Campi. A Villa Convento, frazione di Novoli, due banditi incappucciati, di cui uno armato di fucile a cannemozze, hanno fatto irruzione nell'unica farmacia della frazione. Tenendo tutti i presenti, clienti e farmacisti, sotto la minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare le poche centinaia di euro contenute in cassa e poi sono scappati su un'auto di colore verde, stando a quanto raccontato dai testimoni, alla guida della quale li aspettava un complice. Di sicuro, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza diranno ai carabinieri che indagano anche su questo caso qualcosa in più sui malviventi.